Quindi per farti un piccolo esempio che io compro un Netflix sulla piattaforma Gamsgo, come puoi vedere vado così al pagamento, questo è il prezzo di 3 mesi di 12,74€ più il codice promozionale. Vado direttamente su Netflix, inserisco così le credenziali che mi hanno mandato per via email oppure li trovo direttamente sui miei abbonamenti Gamsgo e clicco così il mio profilo ed entro su Netflix. Quindi come funziona? In alto a destra sulla personcina lì, su quella persona là, ci clicco sopra, faccio direttamente accedi, accedo così con il mio account Google, così facendo mi mandano le credenziali per via email. Quindi clicco sul mio profilo, vado su i miei abbonamenti ed ecco i miei abbonamenti. Questo è il mio abbonamento di Netflix. Quindi ora passiamo a Spotify, quindi per Spotify ed eccolo qua sulla piattaforma, ci clicchiamo sopra, come puoi vedere qua c'è scritto iscriviti adesso, ed ecco così i 12 mesi. Ha soli 22,99€ più il codice promozionale che forse potreste scendere sotto i 22€ e ha solamente un solo profilo. Quindi tu poi vai su Spotify, quindi tu vai su Spotify sulla piattaforma e avrai per sempre il tuo account. Quindi se lo rinnovi ogni anno avrai sempre il tuo account con le tue canzoni, le tue playlist e tutto. Quindi un nuovo account, un nuovo abbonamento a soli 22€ all'anno. Basta, solo 22€ all'anno. Ci metti l'email, ci metti la password, fai accedi ed entri così nel tuo account di Spotify. Ovviamente se hai problemi puoi commentare sotto al video, entrare nel mio server Discord, scrivermi in privato oppure scrivermi direttamente su Instagram. Quindi tutti gli abbonamenti li puoi trovare qua, sulla personcina qua sopra con l'email tua, il mio abbonamento. Ed ecco lì qua, questi erano i miei vecchi abbonamenti che adesso sono scaduti. Quindi tu compri, metti il codice promozionale per ricevere uno sconto, ti danno le credenziali e le puoi inserire su Spotify. Ed ecco qua il tuo nuovo account. Quindi come ho detto, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E questi come puoi vedere sono i clienti che ho portato sulla piattaforma. E come puoi vedere, gli ultimi clienti hanno comprato ChatGPT e hanno comprato anche Spotify per un anno intero. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!